Nuovo caso di smaltimento illecito dei rifiuti sul territorio. Nel mirino della Guardia di Finanza, una nota società di produzione di calcestruzzo di battipaglia situata al confine con il territorio del comune di Ponte Cagnano-Faiano. L'attenzione delle fiamme gialle della prima compagnia era stata attirata dalla presenza di sedimi fangosi che affioravano dalle acque del fiume Tusciano, il quale sfocia nel golfo di Salerno. Nel ripercorrere i sedimenti, i militari sono giunti al ridosso della sede dell'impianto di betonaggio dell'impresa con una superficie di oltre 12.000 metri quadrati. Nel corso della successiva ispezione è emersa l'esistenza di una vera e propria discarica a cielo aperto. A Monte dell'Impianto sorgeva inoltre una vasta area di circa 3.000 metri quadrati che era adibita a rimessa di diversi materiali e in quel momento era quasi interamente occupata da breccia e sabbia. Per impedire il protorarsi della condotta illecita, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro l'azienda e tutta l'area utilizzata per lo smaltimento illecito.